Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati Ventesimo appuntamento con Rally Dreamer Cifra tonda Ci sono io ma come sempre Quando si parla di Rally Dreamer Non può mancare il mio fedele compagno di viaggio Mirko Tognarini Ciao Alice e soprattutto buonasera a tutti voi Sono felicissimo di essere arrivato anche quest'anno Alla ventesima puntata ma ce ne saranno ancora delle belle Esatto, cifra tonda Mirko Cosa ne dici? Festeggiamo, facciamo qualcosa Facciamo entrare una torta con una candelina Festeggiamo la fine dell'anno Così siamo più tranquilli Naturalmente io come sempre parto Ricordandovi di interagire con noi Utilizzando tutti i nostri indirizzi web E soprattutto le nostre pagine social Il nostro pubblico si sta ampliando Continua ad ampliarsi e noi ne siamo felicissimi Chiaramente interagiamo con voi, vi seguiamo Siamo felici di sapere che appreziate il nostro lavoro Ma noi non ci accontentiamo E vogliamo che voi continuiate a crescere Pertanto utilizzate il nostro hashtag Rally Dreamer Per restare aggiornati sempre Su tutto ciò che la nostra redazione confeziona E anche per seguire le nostre trasferte Perché come avrete avuto modo di vedere È stato un mese, anzi sono stati E saranno mesi particolarmente impegnativi Per le nostre troupe Anche questa sera non siamo soli in studio Di fianco a te Mirko io vedo un ospite importante È con grande piacere che io do il ben arrivato A Stefano Peletto Ciao Stefano Ciao, buonasera a tutti Grazie dell'invito Tra pochissimo in questa puntata Vi sveleremo quelli che sono stati i risultati Del televoto del nostro rally game E non solo, vi leggeremo anche la classifica finale O meglio la top ten della classifica finale Svelandovi quali sono i nomi dei piloti Che si sono aggiudicati i primi dieci posti Vi ricordo semplicemente che tra questi dieci nomi Tre saranno i fortunati Prescelti dalla nostra giuria E che potranno aggiudicarsi una R5 A rally di Monza Stefano, vengo da te a questo punto Vorrei che tu ti presentassi Perché se io dovessi farlo con poche parole Direi un imprenditore di successo Innamorato dei motori Invece se dovessi farlo tu Che cosa ci diresti? Beh adesso mi mettete in difficoltà Se mi fate delle logiche così Perché mi ritengo una persona normalissima Non ho fatto niente di più Di quello che magari gli altri pensavano di fare E io ci sono riuscito Ma perché magari ci ho creduto di più O mi sono impegnato di più Ho dato tanto sacrificio Vabbè subito nel lavoro Però ormai sono 28 anni Che ho creduto nel mio lavoro Nel mio mestiere E con la mia impresa Pelletto SRL Abbiamo raggiunto degli ottimi risultati E proprio nel 2018-19 È stato il clou della nostra impresa Quindi miriamo a rimanere Perlomeno a eguagliare Negli anni a venire I stessi risultati Senza vorrei straffare Perché non ci piace straffare Come questo l'ho fatto anche Nel mondo del rally Del drifting Che la mia passione è stata i motori Perché io comunque vengo dal motocross E ho fatto Nel 91 ho comprato la mia prima moto da cross A rate Con diverse rate E comunque mi accontentavo anche Di fare poche gare nel regionale E poi purtroppo mancavano proprio le finanze Perché non vengo da una famiglia molto ricca Anzi una famiglia piuttosto povera Per quegli anni Però parliamo del 91 Quegli anni lì Già avere un lavoro era una fortuna Aveva un lavoro che rendeva abbastanza Ma non bastava per Dovamo dedicarlo più alla famiglia Alla casa Che è la passione Quando sono riuscito a A fare via A avere qualcosa in più Da potermi permettere Le mie soddisfazioni Ho deciso di intraprendere questo mondo Che è partito dal drifting Ed oggi invece siamo Fostati nel mondo del rally Direi così Allora Intanto Partiamo dall'inizio Io mi sono un po' informato Perché non passi inservato Con la livrea delle tue macchine Quindi Naturalmente anche noi Ci siamo informati su Chi è Stefano Com'è nato o meno Torino Kermes arriva Stefano In un piazzale Incontra il papà di Valentino Rossi Graziano Rossi E gli dice Ho una Mustang Monta sopra e vedi se ti piace E' andata così Più o meno così Che cosa è successo esattamente Spiegaci Niente Praticamente Mi era stato presentato Il papà di Valentino Rossi Grande Graziano Rossi Che è una persona speciale per me Perché è uno dei primi Piloti veramente Che ho conosciuto E a livello Più blasonati Che conosciamo in Italia E non solo in Italia E siamo C'è stata una cena In cui abbiamo detto Gli ho chiesto se voleva Sponsorizzare Portare Gli adesivi Sulla Sua macchina Che era una Mustang 5300 Con oltre 500 cavalli Che poi è diventata tua Quella macchina Che poi è diventata mia Però Subito sono nato come sponsor Io non come Mezzo pilota Che sono rimasto O quel che provo a fare E' nato Questo Connubio Con lui Il problema è stato questo Abbiamo fatto la macchina Abbiamo fatto la presentazione A Torino Quando è stata l'ora Di guidarla Mi ha preso Il risparmio Fale Stefano Non me la sento Perché in questi circuiti Così che erano su Via Delle piazze molto grandi Ma erano un po' limitati Bisognava avere Veramente l'occhio fino E lui non è che non l'avesse Ma non si sentiva Di Cioè davanti a Migliaia di persone Fare brutte figure Giustissimo Al che la macchina Aveva la disposizione 4-5 macchine Al che la macchina Rimaneva ferma Gli ho chiesto un casco A un mio amico E gli ho detto Ma ci provo io Ormai la macchina L'abbiamo fatta Dobbiamo portarla Farla vedere E così è stato Ovviamente A passo d'uomo Andavo Provo a tirare I miei primi freni a mano Farei le sgommate Via Come si suol dire E poi Quando ho visto Che è una cosa Che mi Proprio mi interessava Ho iniziato a fare Dei corsi drifting Ho iniziato A provare anche Delle macchine Più Più sincere Perché la Mustang È stata una macchina Che o la ami O la odi Io l'ho amata E tanto è vero Che poi l'ho comprata E proprio Non sono stato in grado Di usare altre macchine Da drifting Perché quella macchina È una particolarità Che ha un muso Molto lungo E un sedere importante E con la cavalleria Che c'ha Quando parte nel traverso È difficilissimo Da fermare Stefano Noi chiaramente Di Rally Dreamer Siamo un po' distanti Da quella che è La tua disciplina La disciplina del drifting Vorrei saperne un pochino Di più Innanzitutto ti chiedo Che cosa si prova Quando controlli Un'auto Insomma Di traverso Per decine di metri A quella velocità E soprattutto Quanto allenamento Richiede poterlo fare Con una certa sicurezza Beh io Intanto ho iniziato Non come professionista Ma come amatore Come le cose che ho fatto Poi Purtroppo ci credo Proprio Sempre fino in fondo E quindi Sono voluto andare Oltre Alla mia piccola passione Che era nata Ho voluto quasi diventare Un professionista Tanto è vero Che quest'anno Avevamo presentato Due auto Nel campionato italiano Europeo drifting Di cui ho partecipato E ho fatto Il sedicesimo posto Per cato che prendevano I primi 15 Sì ma non erano in 16 però No no Mi sembra una quarantina 50 No erano 100 100 Giusto Perfetto Nella mia prima gara Avevamo comprato Un'altra macchina Abbiamo fatto Provato Ce l'abbiamo messo Tutto per fare Questo campionato Però ho capito Che le regole Di questo campionato Non mi piacevano E di questo Io sono stato contento Perché siamo passati Dalla disciplina drift A quello che è il nostro mondo E si è arrivato Nei rally E lì è tutta un'altra cosa Mi sembra Beh io Senza dimigrare nessuno Come tutte le cose Che ho fatto nella mia vita Voglio sempre un estratto conto Ma non economico Anche proprio personale Per vedere se cresci Se peggiori Se migliori E perché se no Uno non ha mai Un termine di paragone E quindi io Quando ho iniziato A fare drifting Ho iniziato A staccare il freno a mano A 20 metri dalla curva Sono arrivato A staccarlo A 100 metri dalla curva Ai 130 all'ora E quindi Quello lì Era il mio parametro Che mi misurava La mia capacità personale E la mia soddisfazione Nella gara Invece Non c'era niente di tutto questo Era soggettivo Ovviamente Secondo ai giudici Come piaceva Che tu Interpretavi una curva O meno O l'esibizione Se veniva fatta Con più fumo Meno fumo Un po' più show Meno show Prendevi dei punti E a me Questa cosa qua Lasciarmi giudicare Da qualcuno Che è sicuramente Più competente di me Però non mi dà soddisfazione In modo personale È diverso Per vedere Lì invece c'è Un cosino Più o meno grande Così Che gira senza Di continuo E dice Quanto sei più veloce Quello non perdona Quello non perdona Comanda lui Cioè si fa tanti discorsi Mi sono girato Mi sono distratto Ho avuto un problema Tutte le scuse Sono capace Ma quando scatta La fotocellula Poi si legge Si dice Questo ha fatto uno Questo ha fatto due E lì comanda Questi sono i rally Che ti hai cominciato Con quale autovettura Beh io ho iniziato Con una Clio RS Gruppo N Nel rally di casa Diciamo Perché St. Damiano D'Asti Era il rally del grappolo Di cinque anni fa Se non sbaglio E lì mi è andata Subito bene Perché sono andato a podio Ho fatto terzo assoluto Oltretutto c'era C'era la neve C'era il ghiaccio Era dicembre All'8 dicembre Prima gara Terzo assoluto Si Però E poi con un gruppo N Fra l'altro Se non sbaglio No scusa Terzo di classe Mi sono sbagliato Terzo di classe Ho fatto podio Terzo di classe Ho fatto Di fatto lì I miei amici Mi hanno poi Loro ho spinto A riprovarci Però era stato eccezionale Perché io arrivavo Nelle curve Ovviamente dal drifting Il giorno prima Era una manifestazione Drifting Con una trazione posteriore No Lì arrivo Con una trazione anteriore Però arrivavo nelle curve A 5-6 metri Tiravo già il freno a mano Tanto è vero Che era stato spettacolare Anche quel rally Non mi era piaciuto La trazione anteriore Tanto è vero Che ho abolito Per me E sei passato subito Sulle quattro ruote Ho detto Se devo fare rally Devo fare con quattro ruote motrici Ed è arrivata La Evo 9 E in realtà La Mitsubishi Evo 9 Quella che ovunque Ti si vede Su qualunque Immagine che c'è Sparsa nei web È sempre di traverso Cioè non è mai dritta Quella macchina È sempre di traverso A volte andiamo a far le gare Ho fatto degli ottimi tempi Beh io ripeto Ho fatto 10 rally Nella mia carriera Diciamo così E spero di farne Di farne ancora tanti Perché i progetti Sono veramente tanti Però la soddisfazione Era più Non quando facevo bene Che dovevo mantenere un tempo Ma quando ti avevo il freno a mano No E speravo a volte Di non stare nei primi 10-15 No 10-12 Da poter stare nel top 10 Diciamo Da poter poi divertirmi di più E Tanto i tempi non arrivano E non rischiare a farmi Ma rischiare a fare divertire Più l'altro Questa storia la conosco L'ho sposata diverse volte anch'io Ma io perché non ero capace Di entrare nei 10 Quindi era diversa Però Un'altra cosa Nel frattempo Nasce un'altra bellissima cosa L'appelletto racing Sì L'appelletto racing Come dicevo prima Io Purtroppo Ci sono amici e amiche Che mi dicono Che sono un vulcano Perché Io inizio una cosa Poi se mi appassiono veramente Ci do l'anima Il corpo Il cuore La mente L'energia Tutto quello che ho ancora Ovviamente diviso Devo dividerlo Con il mio Il poco tempo che ho Perché il mio lavoro Me ne prende già molto Però abbiamo Ci abbiamo creduto Veramente in tanti In questa cosa qua E abbiamo voluto fare L'appelletto racing team L'appelletto racing team È nata Da una semplice Cena con amici Circa un anno fa Proprio a dicembre In cui Ho chiamato Degli amici Che avevano delle macchine Macchine oltretutto Di un certo tipo Comunque avevamo Tutti i prototipi Con oltre 400-500 cavalli Quindi macchine Veramente Spettacolari E Chiede semplicemente Di una collaborazione Di portare la nostra livrea I nostri marchi Che comunque noi Inutili Lo facciamo lì Per beneficenza Noi facciamo questa cosa qua Perché ci piace Secondo per le nostre aziende E per i nostri sponsor Che devono fare la pubblicità Perché la pubblicità È l'animo del commercio E noi siamo qua per questo Siamo in televisione Per far vedere i rally Ma soprattutto Per dar modo a voi Che correte nei rally Di far vedere Chi vi dà una mano A livello economico Nel tuo caso Nel tuo caso Anche di vedere la tua azienda Perché ti autosponsorizzi Io sono stato il primo E il 70% Per fortuna Un po' di imprenditoria Mi è rimasta Stefano È saltata tutta la scaletta Ma è veramente Una cosa Ganzissima Detta proprio in toscano Quindi Noi andiamo avanti Finché non ci ferma La nostra Alice Che sa quando fermarci Noi andiamo avanti Tranquillamente Allora Intanto ti dico Se vogliamo sentire anche lei Mi può piacere Sì io dopo Non lo so Però deve sentire C'è poco da fare Ascolta Insieme alla tua scuderia Chiamiamola così Arriva anche Un grandissimo dei rally Che guida Con il vostro marchio Perché Lo vuoi dire te Lo dico io Dillo pure Paolo Andreucci Sposa la tua idea E si presenta In gara Con una bellissima 208 Con Peletto E i suoi marchi E i suoi colori O sbaglio Giustese Con Paolo ci siamo conosciuti Esattamente l'anno scorso a Monza Che ho voluto fare Il rally di Monza Nel 2018 E abbiamo fatto il briefing Veramente Io ho attaccato lui E continuavo a chiedere Lui non vede tanto E anche un po' sordo Secondo me Perché Gli ho già detto Mi dissocio Io mi dissocio No no ma Leggermente Non tanto Però ogni volta Che dicevo qualcosa Al commissario Direttore di gara Continuavo a chiedermi I consulti Allora Allora Gli facevo le foto Gli le passavo Gli leggeva E lì è nata Questa amicizia Questa amicizia Questa conoscenza E poi Beh comunque Io l'ho seguito tanto Nella sua carriera È una persona Veramente speciale Poi adesso Che lo conosco È una persona Che ne vale la pena Di conoscere Perché è veramente È veramente pesante Nei rally Ha dato tanto Ha vinto tantissimo Ma secondo me È ancora molto da dare Non è ancora finito Quest'anno Grazie anche a voi Gli state dando una mano Credo Sta facendo tantissimo Anche in questo Campionato su terra Che Fra l'altro È casa sua Perché La terra per Paolo È importante È importante Purtroppo La realtà è che Non abbiamo Le macchine Di ultima generazione Diciamo La macchina Che comunque Ha fatto Beh Paolo Ha fatto tantissimo Con quella macchina lì Sulla terra Un po' più penalizzato Degli altri Perché bisogna dire la verità Ma lo sanno tutti Quindi non diciamo Niente di nuovo Lui ci mette veramente In impegno Difatti sono andato a vederlo Io lo seguo Dovunque va Perché mi appassiona Vedere Il rally su terra Secondo me È un fascino particolare Ah ci guarderà anche stasera Eh Ci guarderà anche stasera Sicuramente Io Mirko Interrompo solo un istante Il tuo interrogatorio Perché a me è una cosa Che ha colpito particolarmente Invece È il grande impegno Che tu e il tuo gruppo Infondete anche nel sociale Con delle iniziative Piuttosto importanti Hai voglia di parlarcene Poi Mirko Ti ripasso la parola Perché Ma benissimo Ma guarda Ti dico questo Noi abbiamo iniziato a fare I nostri gadget Come le nostre magliette Con gli sponsor Per farci conoscere Tutto quanto E avevamo subito pensato Di perlomeno ripagarci Queste cose qua Alla fine Siamo trovati noi tre Io Enrico e Armando Abbiamo deciso Ma onestamente Il nostro lavoro ce l'abbiamo Rispettiamo il 50 centesimi Non è che abbiamo soldi da buttare via Mi ho detto Ma se cosa raccogliamo Di questa vendita Di cappellini Magliette E quant'altro Lo dessimo in beneficenza Così Visto che abbiamo le famiglie E le nostre famiglie Ringraziando manca nulla Diciamo Cosa è stato dato E a chi Che mi fa piacere È una cosa bella Noi abbiamo fatto Già tanti anni Che facciamo beneficenza Perché noi a volte Facciamo il taxi rally Taxi drift In diversi paesi d'Italia E a titolo gratuito E portiamo circa Dalle 8 7-8-10 macchine Quindi immaginate Con 7-8-10 persone Più 10 meccanici A volte andiamo fino a Pesaro Sono costi Ma facciamo tutti gli anni A Pesaro Con il papà di Valentino Sono costi Sono costi Una manifestazione Di 4 giorni Quindi immagino 30 persone che vanno via 3-4 giorni Con camion Bisarche Tutto quanto Però abbiamo deciso Di dare una mano A questa gente Perché alla fine Ci divertiamo noi E facciamo pubblicità E riusciamo a fare del bene Per gli altri Quindi Secondo me Non c'è niente Che Che non possa funzionare Abbiamo fatto Quest'anno Solo ultimamente L'ultimo mese Abbiamo fatto Donato Una cifra Un assegno Che abbiamo messo Già anche Nei social Sui social Di una cifra Non sto lì a dire Le cifre Non è importante Abbiamo dato Per Regina Margherita E bambini Di malattie Questo è importante La cifra È meno importante Ultima cosa Dobbiamo essere veloci Perché poi fra un po' Ci fermerà sicuramente C'è un altro pilota Che noi di Rally Dreamer Conosciamo Che è sponsorato Alba Dove avete fatto Una cosa magnifica Il rally di Alba Si chiama Canta qualcosa Non me lo ricordo bene Non so se ti lo ricordi È difficile dimenticarsi Ma in questo momento Non me lo ricordo Non mi ricordo Ah sì Canta Messa Mi sembra Sì Canta Luca Mi raccomando Scoda per lui I colori Anche questa volta Erano peletto Però bellissimi Ma soprattutto Un rally di Alba Stupendo Quest'anno Avete veramente Strafatto Vi dico avete Perché so Con previsione Detto da Luca Che anche tu Contribuito tanto A questa cosa Sicuramente Noi ormai Questo qua È il quarto anno Che organizziamo Io non è che organizzo Alba Io allestisco Alba Allestisco la prova speciale La prima prova speciale È la prova spettacolo Perché avendo le macchine Da drifting Grazie a Augusto Franco Che è uno dei primi Organizzatori Del rally di Alba Mi ha chiesto La collaborazione Per questa cosa qua Io avendo la macchina Drifting Ho detto Ma se faccio la pista Io me la faccio Più o meno come mi piace E poi ci posso correre E non mi dice niente Nessuno Non è male Anche se non è vero Anche se non è vero Perché è Augusto Franco Uno di quelli Che quando smetti Di girare Mi fa proprio fuori Gli ho detto Ma ieri allestivamo Mi dicevi Niente fuori E quindi la regola È giusta che ci siano Per tutti Noi abbiamo allestito Questa prova speciale Spettacolo È speciale Perché comunque Senza il nostro aiuto Sarebbero stati In grossa difficoltà Perché comunque Ci va una settimana Circa a montare Tutto Mettiamo New Jersey Abbiamo circa 130 New Jersey Rotoballe Circa un centinaio Di rotoballe Poi Stefano Ti interrompo Ti spiego perché Ho bisogno di passare La parola alla nostra Lecce Però te prima mi hai detto Ma non so Parlerò poco Parli tantissimo Mi piace da morire Mi piace tanto Anche ai nostri telespettatori Lo vedrai Dobbiamo rinvitarti Perché il tempo per noi Per te è finito Dobbiamo far parlare Ti chiedo scusa Grazie Mirko Hai visto che facevo Dei cenni strani Esatto Perché purtroppo Il tempo è in esaurimento Noi dobbiamo parlare Di quello che sarà Invece l'ultimo atto Del nostro rally game Dobbiamo leggere La classifica O meglio La top ten Della nostra classifica finale Che vede Al decimo posto Marco Roncoroni Al nono posto Mirko Straffi Ottavo posto Per Mattia Targon Settimo posto Marco Belli Sesto posto Per Michele Rovatti Quinto posto Per Gianluca Tosi Quarto posto Damiano De Tommaso Terzo posto Alessandro Zorra Secondo posto Per Alessandro Re E al primo posto Alessandro Casella Quindi a questo punto Non rimane da fare altro Che aspettare Il giudizio Dei nostri giudici Perché è tutto Nelle loro mani Mirko secondo te Che piega prenderà? Il televoto ultimo Ha avuto i suoi risultati Abbiamo detto Chi ha vinto Che cosa ha fatto Chi è stato il vincitore Chi è stato Casella Che è stato bravissimo Sinceramente Ma adesso Starà ai giudici Nella prossima puntata A decidere Chi saranno I tre Da portare L'ultimo televoto Che tanto se non so Se sai che cosa facciamo Nel nostro gioco Se sarai Spero Quest'anno Anche quest'anno A Monza Ci sarà qualcuno Che grazie Al nostro gioco Viglierà un R5 Gratis A Reddy Monza Quindi è una cosa carina Spero di venirti là Indubbiamente Ce l'hai un'idea L'idea c'è Ne parlavamo anche Dietro le quinte Prima Potremmo quasi chiederti Di stare insieme a noi Alla fine Perché tutti insieme Faremo una grande famiglia Guarda io dico sempre Perché l'unione fa la forza Su questo siamo pienamente d'accordo Tranne che a tavola Ognuno il suo Io l'ho sempre detto Se non peraltro Io vicino a te Non mangerai mai Perfetto Benissimo Allora siamo sempre Amici dall'inizio Senza nessun problema Mirko ma secondo te Chi sceglieranno i nostri giudici? Guarda ti devo dire la verità Sono rimasto molto colpito Dal fatto Che i nostri telespettatori Devo dire Hanno votato In maniera Pazzesca Perché Claudio Il proprietario L'ideatore di Rally Dreamer Mi ha detto Rally Link Chiedo scusa Mi ha detto Che sono arrivati Oltre 1200 voti In pochissimi giorni Sei giorni Sono durate le votazioni Quindi vuol dire Che i giovani Sicuramente Hanno tantissimi amici Che hanno votato Direi Che i nostri giudici Dovranno un po' pensarci Perché Tra i dieci Lo hai letto te Poc'anzi Ci sono Alcuni Che Un R5 La guidano spesso Ci sono alcuni Che vincano I campionati Che l'hanno già vinti Ma ci sono anche Dei giovani Che con le R2B Sono andati fortissimi Non metterei Certo lontano Anche il buon Mattia Targon Con la N3 Che si è trovato Nella Totem Alla fine Di questa classifica Non lo so Io spero che Si mettono una mano Sul cuore E diranno Bah facciamo guidare Nel R5 A un giovane Che forse Non l'ha mai guidata Lo vedremo Mi sembra quasi Mi sembrava di capire Che forse le intenzioni Fossero quelle Quelle di agevolare Anche i giovani A questo punto È tutto nelle mani Dei nostri giudici Non ci resta che aspettare Una settimana Per capire invece Chi saranno i tre fortunati Ad andare al televoto finale Il tempo è quasi esaurito Purtroppo Io parto da Stefano Grazie Stefano Per essere stato con noi Speriamo di rivederti presto Il nostro ospite Grazie mille a tutti Buona serata Grazie Mirko Come sempre Sei una garanzia Senza di te Rally Dreamer Non si fa Troppi complimenti Senza di te Casomai Perché ormai Siamo andati Alla rally delle due valli E ci hanno tutti detto Alice 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 Ma quando la portate Alice Ma perché non c'è Alice Saremo costretti a fare Qualcosa tipo Una tua sagoma A livello Un cartonato Un cartonato Mi sembra un'ottima idea Finché poi Ci sarà anche Alice e Monza Ragazzi Chi vorrà vederla Sarà con noi Monza è una tappa imperdibile Ogni anno Tappa fissa Io vi saluto Vi auguro un buon proseguimento Di serata Naturalmente l'appuntamento È sempre lo stesso Ogni venerdì alle ore 20 Sul canale 60 E ogni mercoledì Alle ore 21 La replica Su Simotori Grazie Buona serata Questo programma È stato offerto da Grazie a tutti